Qualche anno fa il Senato visse una giornata drammatica e ricordo ancora l'urlo, il grido. Ho conosciuto un tempo in cui il grande partito della sinistra era più cauto su queste materie. Il Partito Democratico in un modo particolare si chiude con questa possibilità di mediazione. E' da dire davvero che stavamo meglio quando stavamo peggio nei tempi quando c'era il Partito Comunista. Il Partito Democratico è una legge pazzesca, pazzesca, che consentirà all'interno dei familiari intorno a letto. E se sono il senso di loro, se vorrà la mutazione para-eutanasica. Ma che problema c'è ad approvare cose di buon senso? Questa deve essere una porcheria consegnata da un paese così, esattamente come si vedevano in cui fatto. Poi, dell'applicazione fatto con più in nessuna pene di persone che sono già sofferenti. Poi, dell'applicazione fatto con più in nessuna pene di persone che sono già sofferenti. L'applicazione fatto con più e sottose di persone che sono stati. L'applicazione fatto con più in nessuna pene di persone che sono stati e sottose di persone che sono stati molto bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.